C'è qualcuno. Devo aprire la porta. Perché è molto importante. Dai, tratte. Mi sto aspettando. Buongiorno. Abbiamo portato tutto quello che ho ordinato. Grazie, ecco il pagamento. Cos'è questo? Ma perché hai portato questo? Oh, guarda. Ci sono tante cose interessanti all'interno. Posso fare un letto bellissimo? Che stai facendo, Kate? Sei viva? Sì, a posto. Ecco. Vabbè, non è colpo della scatola. È proprio tua. Sto bene. Adesso vedrai. Ok, cominciamo. Non riconoscerai più il mio letto. Sarà un vero capolavoro. Ok, facciamo la base. Non è male. Io te l'avevo detto. So cosa fare. Devo ristorare la mia camera. Adesso. Buongiorno. Dove devo ammettere? Cosa? Hai comprato un letto? Pronto? Non è giusto. Io posso spendere i miei soldi come voglio. Fatto. Guarda che bello. E non è tutto. Aggiungiamo anche i cuscini. Le tende. Ecco. Ottimo. Le luci. Questo è molto importante. Ecco fatto. Chiusi le bocche. Ecco. Il mio letto è ottimo. Non lo devo fare. Il mio letto è ancora più bello. Che devo fare? Non lo so. Ma devo avere delle opzioni. Ah, lo so. Mi servono le tende. Anche la tavaglia. Eccola, prendo. Ok. Ottimo. Ora posso decorare il mio letto. E farla molto bella. Ma cosa devo fare? Bingo. Non disturbarmi. Ecco. Devo così fissare le tende. Ecco. Funziona. Il mio letto si trasforma. Sì. Meglio. Ecco. Quasi finito. E nessuno potrà dire che ho una bella. Calmati. Cosa facendo? Sei troppo nervosa. No, non ci preoccupare. Dove toglierlo per fare la macca. Che bello. Sì, una macca non è tanto. Io so cosa fare. Vediamo. Ok. Devo far vedere a Kate cosa posso fare. e non che pensi che io sia. Che lei sia la migliore. Eh, sì, sono qui. Dove vai? Oh, che bello. Portatelo qui. Metterò questo qui. Ecco. Avrà anche la musica qui. e anche qualcosa per disco. Bye bye. Bye bye. Tutto pronto. Ok. Devo fare una piccola festa. Ciao, ragazze. Kate, scusa. Non ci ho invitata. Eh, vabbè. Io voglio accendere la musica. Uh, che bello. Una vera festa. Bingo. Organizzerò una festa migliore. Non sarà simile alla sua. Sono i miei giocattoli preferiti. Devo mettere il tavolo. Bene, ora sedete. Ok. Facciamo una fossa del tè. Siete così carini. Vi adoro. Volete del tè? Servitevi. È molto buono e profumato. Kate ha la sua festa. Devo accendere il volume. Oh, no. I miei zimpani. So come fermare questa. Eh, mi sto spedendo. Entrate. Perché mi ha chiamato? Venga qui. Guardate cosa fate queste compagnie. Una festa. Vedo che qualcuno sta facendo una festa illegale romorosa. Ragazza, tranquilla. Ci penso io. Soldi? Mi piace la sua offerta. La nostra questione è completamente risolta. Ah, vedi. Dannazione. Scusi, devo andare. Vedi, ho un altro piano. Ho intenzione di fare una festa ancora più bella. Amici, abbiamo qualcosa da fare. Ho portato dei vecchi cinti. E possiamo fare sì. Una palla luminosa. Ecco. Guardate, l'ho tagliato a pezzi. È quello che mi serve. Oh, che belli che sono. So cosa fare. E adesso mi insegnerò il mappamundo. Perché? Sì, è un cerco ideale. Ecco, guardate. Sì, è fatto. E posso mettere anche i cigli sulle pareti. Le luci. Le luci. Sì. Liberano lo spazio. Oh, che bello. Io. Meno male che io ho il telefonino. Oh, c'è una risposta. Ed è molto più interessante. Partecipa anche tu. Mi annoio. Perché non hanno un telefono? Aspetta Tazzo, ma so cosa fare. Dobbiamo creare le luci. Nella scatola dovrebbero esserci tante lampadine. Sì, è così. Vediamo se sono tutte quante intatte. Sì. Però devo inventare cosa farci. Non mi serve più la scatola, ma il cavo. So dove prenderlo. L'importante è che non mi becca. Devo tagliare. Non so quanto me ne serve. Fatta. Devo tornare. E so cosa farò. Una vera e propria girlanda. Uh, è ottima. Così starà benissimo. Ma perché c'è da questa girlanda? Ok. Bene. So cosa farò. Sì. Venga, venga. Abbiamo portato quello che ho ordinato. Queste sono le migliori ghirlande. E ora le metteremo. E così? Vedrete. Uh, sono più belle delle mie. Dobbiamo solo accenderle. Fatto. Com'è? Grazie. È quello che volevo. Eh, ci contatta pure. Ok, devo fare una piccola pausa. Prendo un cocktail e mi sdraio. Oh no! Cade! No, non questo! No! Oh, il veletto va a fuoco! Aiuto! Abbiamo un incendio! Ma che ci fai qui? Aiuto, Andrea. Dovremmo usare l'essentore. Non preoccuparti. Spegnerò queste piame. Ecco fatto. Ciao al sicuro. Grazie. Grazie. Ci hai salvato. Vabbè, di niente. Wow! Wow, so fast. È per me. Ecco, apro. Buongiorno. Grazie. È tutto per me. Ok, devo mettere a posto questo letto. Ok. Adesso ne faremo un ottimo letto. Non mi serve? Un po'. Non riesco a prendermi. Stai attenta. Basta, basta. Ok. Stai bene? Sì, sì. Ho detto che sto bene. Ho trovato un dettaglio molto interessante. Non è che stia qui. Ancora un po'. Ok, ce l'ho fatta. Ok, andiamo avanti. Sì. Dai, stai attento. Te l'ho detto. Ok. Questo va via. E faremo un letto. Sì, è troppo facile. Ok, devo mettere qui le legne. Ah, che bravo. Che sono. Ottimo. Incredibile. E ce la farò. Ecco fatto. Ecco i vostri soldi. Adesso faremo tutto. Ok, grazie. Cosa? È stato difficile. Cosa? Incredibile. Che bella. Sì, niente incredibile. Io avrò il miglior letto. Ah, vediamo se vengono anche i fiori. Sì, abbiamo fatto tutto. Allora, ho fatto tutto quanto con i cuscini. Ancora un po'. Stato attenti agli occhi. Oh, è incredibile. Ah, cosa pensavi? È così dura. È così bella. Perché mi guardo così? Eh, vabbè. Cosa farò? E questo mi servirà. Farò un bel letto. E se prendo un pezzo? Uh, che bravo che sono. E adesso devo attaccare tutto quanto. Metterò questo. Andiamo avanti. Un po'. Un po'. Let's go. Oh, ho fatto. E poi la seconda. Ce l'ho fatta. Ah. Cos'hai fatto? Una cosa? Sì, sì. Tutti si meraviglieranno. L'importante è fissare per bene. Uh, ho fatto una bella hamaca. Sì, posso riposarmela. È così comodo. Ha fatto un'hamaca. Sì, invidia. Oh, che noia. Ok, l'hamaca non mi serve più. Farò... Ecco, un tavolino. E una sedia. Aggiungo qui... Sì, la posate. Poi sì. Ah, che bello. E benvenuti, ragazzi. Cosa, ma... Io non è il migliore. Vuole ascoltare la musica. Adesso sì che sarai invidiosa. Sì, buongiorno. Uh, avrete una festa oggi. Eh, comunque servono le luci per la festa. Sì, avete ragione. Grazie. Adesso chiamo tutti i miei amici. Ragazzi. Ciao. Dai, su, venite qui. Sarà ozio. Ma cosa sto facendo là? Non entrare? Non volevo neanche. Ah, no. Le mie orechie. Spegnite la musica. Adesso vedrò. Chiamo tutti, eh. No. La musica è troppo forte. Uh, così in fretta. Ragazzi, dovete andare là. Eh, adesso aspettate. Loro? Oh, loro, i professionisti lavorano qui. Ragazze, fate troppo rumore. Che è un'idea. Questa è per lei. Grazie mille. Che bello lavorare con lei. Buona festa. Uh, che bella giornata che è oggi. Voglio ballare. E devo andare. Eh, vedi come devo solvere i problemi? Ah, di nuovo. Vabbè. So come fare feste. La mia festa sarà ancora più bella della tua. Ah, comunque. Aspetta, devo prendere un mappamondo. I dischi. E poi devo tagliarli. Ok, tagliamo. Ce l'ho fatto. Eh, guarda quanti quadrattini che ci ho fatto. Posso attaccare l'arrivo? Uh, che bello. Ce l'ho fatto. Ecco. Lo appendo qui. Mi piace troppo. E poi con altri tipi posso decorare le mura. Sono così brava. Uh, sì, ma guarda come... Sì, devo accendere la mia musica. Così la sentono tutti. Dai, amici, mi piace. Cos'è? Uh, che bella festa. Dobbiamo andare là. Sì, dai ragazzi, venite. Che bello. Ma com'è possibile? Servono le luci. Ah, cosa? Ma che schifo. No. Dai, su, funziona. Cosa ci devo fare? Ah, sì. Oh, le lampadine. Comunque questo andrà bene. Ma posso usarle per altre cose. Me le metto là. Eh, ok. E tu mi servi. No, il tuo filo. E adesso devo accendere le lampadine. Uh, che bravo che sono. Cosa sta facendo? E adesso devo attaccare la ghirlanda qui. Ma cos'è? Oh, che bello. Ah, così tante luci. E posso leggere il mio libro. Ah, che bravo che sono. Incredibile. Allora, se fai così? Allora, sì. Buongiorno. Mi serve il suo aiuto. Può aggiungere le luci qui? Sì, ho preso quello che serviva. Avrete un letto molto colorato. Accendiamo. Fatto. Ottimo, ottimo. Grazie. Oh no, che terrore. Tutto andato a fuoco. Il mio letto. Ho paura. Devo spegnere. Salverò l'altro letto. Fatto. Sì. Ah, che brava. Dai, vieni qui. Cos'altro possiamo fare? Ma che carino che è qui. E ce l'ho giocato, è ottimo. Ah, già? Certo. Ma quello chi è? Ah, ma io l'ho chiamato. Ciao, ciao. Questa è lei. Ecco. Il suo ordine. Oh, ma quanto è pesante. Interessante. Cos'è che ha ordinato là? Vediamo. Ecco, così il mio letto sarà ancora più bello. Oh, è così grande. Ah, devo mettere giù. Ma cosa sta facendo là? Ah? Ma cos'è che è tutta là? Ah, ecco. Ma è gigantesco. Ecco, quasi finito. E adesso sì, gli strumenti. Ah, che male. Ok. Questa scatola la mettiamo via. Perché è dentro alcio? E cosa farà adesso? Costruttore Mary al lavoro. Ok. Mettiamo questo così e questo così. Non male. Adesso farò una cosa bellissima. Bene. Sono un grande costruttore. Ah, questo. Un letto a due piani. Non sembra voluto uno. Mmm, sì. Il suo letto è migliore. Ah, bene, bene. So cosa fare. Comprare. E adesso spezziamo il corriere. Bene, eccola. Ragazzi, questo è a voi. Grazie. Portatelo. Fatto. Oh, che bello. Ah, sì. Ok, mettiamo il letto. Adesso sì, questo. E aggiungiamo un po' di luce. Mettiamo dei quadri così sarà più bello. E adesso controlliamo. Sì, funziona bene. Oh, è incredibile. Dai, su, chiulia la bocca. E chi ha adesso il letto più bello? Ah, che male. E cosa ci fa lì nella vicina? Dai, non sbirciare. Cosa posso fare? Vengo. Ho un'idea? Io prendo tutto... Sì, qui. Mi piacciono queste tende. E anche questo tovagliolo mi sarà utile. Ah, non ho i soldi. Ma ho una bella miglianzione. Oh, non amare. Ah, così. Mi piace. Ah, cosa stai facendo? Ma questo tende deve saltare fuori. E col tovagliolo posso fare un'amaca. Non è così comodo. Ah, che bello. Cosa vicina? Gli inviti? Oh, che noia. Non so cosa fare. Uh, ordinerò una cosa. Mary sarà gelosa. Ah, ecco, sta arrivando. Buon poverice, signorina. È il nostro ordine. Insaliate, sì. Presto qui. Sarà fatto. Tutto pronto. A lei. Grazie. Ciao, ciao. Sì, vi aspetta tutto quanto nella stanza. Ciao, ragazze. Guardate la mia casa. Oh, è fantastico, Jennifer. È così accogliente. Abbiamo, sì, una festa privata. Nessuno può entrare. Adesso è il momento di divertirsi. Ah, io so cosa fare. Ok. Bene, bene. Il tovagliolo. Sì, adesso metto qui. Mi piace, sì. Ecco i miei amici. Cosa sta facendola? Ok, alziamo il volume della musica. Cosa? Vabbè, spero che Mary sia felice. Ok. Basta. Sicurezza? Sì, sì. Guardate. Cosa sta succedendo qui? Eccoli. Buon vorigio. Qual è il problema? Vengo con me. Le farò vedere tutto. Ecco. Mi disturbano. Adesso risolveremo la questione. Cosa sta succedendo qui? Ma lei chi è? Ehm, signorina. Io posso risolvere tutti i problemi. Ah, bene. Ok. Nessuna regolarità. Oddio. Oh, cosa? Bingo. Un'altra idea. Allora farò sì la mia festa. Per farla sì. Io prendo il mio mappamondo. E con questo cd faremo qualcosa di interessante. Sono felice di questo. So che Jennifer sarà molto gelosa. Ok. Adesso prendiamo un copi stitini. E le mettiamo sul mappamondo. Che bellezza. Sì, fatta. Che bello. Ah, ok. E con il resto faccio le decorazioni. Sì, la mia stanza è stupenda. E ovviamente accenderò la musica. Sì, e così sarà più forte. Cosa sta succedendo là? Ah, che bello feste che hai fatto, Mary. Ciao. Siamo venuti a trovarti. Hai fatto una bella festa. Cosa devo inventarmi? Ah, una scatola. Sì, con le lampadine. Sono così belle. E adesso? Sì, mi sarò il cavo. Ecco. Ho fatto una fantastica ghirlanda. Adesso la devo metterla. Ma cosa si è inventato di nuovo? Ah, questo è bello. Adoro la mia casa. Ok. Venga qui. Sì, sì. Venga, venga. Dobbiamo far brillare questo posto. Sì, sì. È quello che mi serviva. Ecco. Funziona. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Che bello. Che bello. Sì, è bello. Nella tua casa. Che succede? Oh no. Un incendio. Abbiamo un escintore. Aspetta. Adesso spegneremo tutto. Non aver paura, Jennifer. È tutto sto controllo. Ecco. Ce l'ho fatta. Sì, ma la mia casa è rovinata. Mi spazio, Jennifer. Ma puoi sempre vivere qui nel mio. Andiamo da te. Anche la mia casa è fantastica, vero? Sì, è molto bella. Ecco. Questi sono i miei amici peluche. Buongiorno, Tormiglioni. Svegliatevi. Siete arrivati alla sfida parada. No, fateci uscire. Cos'è? Mia, guarda. Ci sono dei lucchetti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette. Oh, c'è qualcosa là. Dobbiamo controllare. Ma dobbiamo tirare la corda? Su. Vediamo cosa c'è dentro. Che... Bello, sono Skittles. Un secchio pieno di caramelle. Sì. Che bello. Mia controlla il tuo secchio. Adesso vediamo cosa io. Spero che sia un del caramelle. No, cos'è? Oh, che ridere. Sei ricoperta di vermice. No, è disgustoso. Ho trovato qualcosa. Guarda, quella è la chiave. Possiamo uscire di qui. Vediamo... Oh, quello che ti sei dice? A questo. Sì, che bello. Dai, ci abbracciamo. No, dai. Oh. È il prossimo compito. Dobbiamo controllare cosa c'è dentro. Dai, su. Uno, due, tre. Dai, controlla. Ok. Vediamo. Cosa? No, ci sono i vermi. Dai, su, calma. Non si fa nulla. Dobbiamo trovare la chiave. Oh, no. Che schifo. Ho trovato. Ma che cos'è? Non è la chiave. Dobbiamo controllare. Ah. Ho capito. È il codice. Ecco. L'abbiamo aperto. Sì, ce l'abbiamo fatta. Vediamo cosa ci aspetta. Guarda. C'ho delle cannucce. Non voglio bere. Vado per prima io. Ah. È disgustoso. Non è possibile. Tocca a te. No, ma è buono. Voglio ancora. Cosa? Puoi condividere con me? No, è mio. Il cocktail è ottimo. Ma non c'è nulla. Quindi è nel tuo bicchiere. Ok. Devo fare tutto per la libertà. Ed ecco la chiave. L'ho trovata. Dai, su. Dobbiamo aprire il terzo lucchetto. Sì, ce l'abbiamo fatta. Che bella squadra che siamo. Cosa c'è là? Apri? No. Vabbè, vado io per prima. Che bello. Ma è una torta. Che buona. Ehi, mia. Dai, su. Tocca a me. Cos'è? Una pistola? Vediamo cosa fa. Dai, stai attenta. Non si preoccupare. Sieni. E come funziona? Non capisco. Vabbè. Devo provare. Apri. Vediamo. Che schifo. È il formaggio puzzolente. Sto male. Ah, so cosa devo fare. Uh. Ma questa adesso è una torta. Guarda. Lo mangio col piacere. Buonissima. E io? Certo. Ecco a te. Oh, che buono. Cosa c'è che non va? Beh, già ho aiuto io. Mia, la chiave. Sì. Che bello. Dobbiamo aprire. Siamo quasi libera. Di nuovo. Andiamo a vedere. Allora, farò i consigli. Ambravacicicocò. Conosso io. Vabbè, vai. Oh, qualcosa si muove. No, è un topo. E io ho paura dei topi. Ok, devo esperare. E calmarmi. Trovata. Ok, è un codice. Cose cinque e tutti cinque. Sì, è stato facile. Andiamo. Oh, di nuovo le cannucce. Yummy. Forse io avrò qualcosa di buono questa volta. Vado io? Sì. Ma è una Coca-Cola. Io l'adoro. Yummy. Ma non c'è nulla. No. Ok. Vado io. Che schifo. È impossibile da bere. Ma io so cosa posso fare. Ok, usiamo la pistola magica. E adesso ci deve essere qualcosa di buono. Buono strutture. Sì, lo sapevo. Che buono queste cocktail di cioccolato. Eh? Non c'è nulla. Dai, sto scherzando. Ecco la chiave. Andiamo ad aprire. Ma riposso io? Sì, evviva. E il prossimo compito? Tra tre, due, uno. Andiamo. Vai tu per prima. No, no. Tocca a te. Ok. Cosa c'è là? Cosa? No, che schifo. Oh, che ridere. Tocca a te. Va bene. Apro. Guarda, sei tutto quanto sporco. No, è una vernice. Che schifo. Perché ridi? Vabbè. Dai, su. È l'ultima. Vediamo chi. Vabbè. Vediamo il paraggio. Andiamo insieme. È la chiave. Siamo libere. Sì. Congratulazioni, ragazze. Avete l'ultima chiave. Dai, su. Andiamo ad aprire. Sì. Che bella. Ce l'abbiamo fatta. Siamo libere.